Il 45esimo Presidente degli Stati Uniti entrerà in carica a gennaio. Donald Trump è nato il 14 giugno del 1948 sotto il segno dei gemelli. Ma come sarà dal punto di vista astrologico il suo 2017? Una prima parte in salita che si scioglierà dopo l'estate. Secondo me saranno i primi sei mesi un po' difficili. Nonostante sia vincitore, probabilmente i primi mesi di Casa Bianca saranno più duri di quanto immagina. però ha giocato, comunque diciamo che è arrivato abbastanza preparato. Astrologicamente avrei dato per favorita a lei. Però lui ha giocato bene le sue carte probabilmente, ma forse i primi mesi saranno più pesanti di come si riaspetta perché i gemelli, ripeto, hanno un cielo di crescita che prevede prove anche abbastanza impegnative.